venite a trovarci nel nostro showroom ti regna auto la piattaforma dell'auto due pareggi ma soprattutto due vittorie da quando è cominciato il girone di ritorno della cavese un successo era arrivato contro la versa normanna fuori casa uno ancora più prezioso si è avuto domenica scorsa a lamberti contro l'altamura e i metelliani secondi in classifica 48 punti restano in lotta per poter vincere il girone h della serie t anche se davanti a loro c'è un potenza che di colpi non ne perde e si trova a quota 52 punti domenica prossima la cavese di leonardo bitetto avrà un derby non semplice allo stadio squitieri di sarno contro la polisportiva sarnese squadra giovane che però anche capacità di riprendersi dopo lo svantaggio come ha dimostrato sabato scorso a canosa di puglia contro lo sporting fulgor che stava vincendo 2 a 0 nel recupero i granata hanno fatto 2 a 2 anche se è da rilevare che sotto l'aspetto dell'esperienza il fulgor è una squadra differente rispetto alla cavese oggi la ripresa degli allenamenti per i bianco blu ha pregiato e giuseppe fella l'attaccante che è andato in gol per primo domenica scorsa contro l'altamura spera nella continuità da parte della sua squadra sì sì è importante la continuità non dobbiamo abbassare la guardia dobbiamo continuare con questa cattiveria e questo spirito mi sto trovando bene mi piace anche quel questo ruolo anche perché l'interpretazione che vuole il mister della mezzala soprattutto da me tra virgolette andare tra le linee e fare il trequartista quindi mi piace molto anche questo ruolo